ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi il canale è maxi milk speriamo sempre per poco ragazzi iscrivetevi al canale e andiamo subito con il glitch allora questo glitch serve per per togliere le braccia o il busto al vostro personaggio allora io sono partito con il primo personaggio e sto passando al secondo io faccio questa procedura perché questa è stata la procedura che mi ha fatto buggare il personaggio sono riuscito finalmente a capire perché mi sia buggato il personaggio e perché proprio in questo modo insomma perché mi lascia anche la possibilità di cambiare i vestiti e allora una volta passati dal primo al secondo personaggio noi dobbiamo andare nel nella storia nella storia e andiamo a selezionare il nostro personaggio moddato della storia per chi non sapesse come si modda un personaggio nel canale delle di roma e anche nel canale maxi milk c'è una playlist dove c'è il video per moddare il personaggio e moddatelo comunque con alieno o alieno o cane o qualche cosa però magari è meglio con alieno che riesce meglio allora una volta fatto questo cosa dovete fare andate nell'online io adesso sono andati in una sessione solo inviti però potete andare dovunque e dalla storia chiaramente una volta che siete nell'online andate in un negozio di abbigliamento adesso andiamo insieme in un negozio di abbigliamento e vi farò vedere come come funziona questo glitch come avete potuto vedere tutti e due i miei personaggi del account secondario non hanno nessuna forma di bug e adesso andremo a vedere come applicare questa sorta di bug che è quello di non avere braccia allora adesso siamo nel negozio di abbigliamento e andiamo a comprare uno degli ultimi completi che è stato messo da rockstar come state vedendo o quello con i guanti o quello senza guanti adesso vi farò vedere questo senza guanti e come potete vedere quando io andrò a mettere o una giacchetta o una una qualunque cosa e automaticamente il diciamo le braccia spariranno allora nel caso del personaggio donna le braccia e spariranno ma non sparirà il corpo nel caso del personaggio uomo sparirà il corpo anche allora come avete potuto vedere se io metto nel personaggio donna un non solo un bichini o un top sparisce automaticamente la pancia però mi rimane la parte dove dove ci sono le dette del personaggio insomma vai per capirci allora mettendo invece quest'altro completo andiamo anche a vedere che funziona anche con questo spariranno le braccia spariranno tutto quello che dovrà sparire e rimarremo con le mani e i guanti come potete vedere a me fa cambiare tutto infatti questo era il bug dell'altro personaggio niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video